Siccome negli ultimi tempi, diciamo ci sono i professionisti del benaltrismo, ci voleva ben altro, si poteva far ben altro, io non so, noi stiamo facendo quello che riteniamo giusto, il massimo, quindi non sono presuntuoso, so che mi ispiro a Mosè, che come dice la Bibbia era l'uomo più umile della terra, quindi io non sono convinto che il lavoro che sto facendo sia così straordinariamente importante, però diciamo che negli ultimi tempi il PIL ha ricominciato a crescere, l'occupazione si è stabilizzata, abbiamo cominciato a mettere in fila tutte le riforme più importanti che l'Europa ci chiedeva e quindi gli investimenti sono ritornati, c'è un po' più di fiducia, di patrimonio di fiducia, cerchiamo di fare in modo che questo patrimonio di fiducia che si sta creando piano piano nella gente riesca in un qualche modo a trasformarsi in un'energia positiva e in una collaborazione positiva con tutte quelle grandi e fortissime potenzialità che ha questo bellissimo paese che si chiama Italia.